Allora, mister, un punto perso, due punti persi o un punto guadagnato? Uno con l'altro, si sono un po' abbracciati e l'agito è fischiato, peccato, però accettiamo il risultato, anche se poi abbiamo avuto diverse occasioni per chiuderla, è stato bravo anche voi in due o tre situazioni, è stata una gran bella partita, è peccato. Comunque segnali positivi per la squadra? Sì, assolutamente ci siamo, siamo vivi, anche oggi secondo me abbiamo fatto una buonissima prestazione, non era facile perché loro venivano da una pesante sconfitta contro l'Atletic, erano molto motivati, l'abbiamo visto che per dieci minuti ci hanno un po' aggredito e niente, abbiamo rischiato qualcosina. Poi siamo usciti, siamo stati bravi secondo me a gestire bene la situazione, purtroppo abbiamo preso il rigore a due minuti alla fine del primo tempo, il rigore all'ottantacinquesimo che anche quello ti taglia un po' le gambe. Vabbè, comunque dai, siamo fiduciosi, siete fiduciosi? Sì, assolutamente, io sono contentissimo perché i ragazzi, come dico sempre, si stanno allenando bene, siamo in sintonia con i nostri programmi della società e cerchiamo sempre di fare il massimo, sicuramente noi siamo venuti qua per vincere, perché noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo trovato una squadra che sarà dura per tutti, far punti qua. Grazie mister, ci vediamo domenica prossima. Grazie a te, ciao.